Llorina, come sta andando la stagione baldeare? Finalmente dopo il Covid ci sono stati parecchi turisti, anche stranieri, soprattutto tedeschi, francesi, olandesi e questo è stato molto bello. Anche se poi sono venuti a mancare molti fanesi che invece sono andati in vacanza fuori all'estero e quindi la spiaggia talvolta sembrava un pochino spoglia di persone. Abbiamo ripreso a organizzare diverse attività e anche qualche serata e la gente ha apprezzato, ha partecipato, numerosa, aveva voglia di divertirsi, di stare all'aria aperta, di stare insieme fuori casa. Poi era particolarmente caldo e in spiaggia si sta effettivamente bene anche la sera. Di dove è di Fano? Io sono originario di Foggia ma vivo nelle Marche da quasi 50 anni. Lei invece di dove è? Di Firenze e vivo a Fano dal 2005. E venite sempre in spiaggia qua, a Fano? No, noi ci siamo trovati stamattina per fare due chiacchiere, due convenevoli. Mi piace la città di Fano? Fano è un gran posto da abitare, molto bello, molto piacevole, con una bella faccia sul mare, con una collina dietro che offre veramente tanto. È un posto dove ci siamo sempre trovati bene, è un posto molto familiare, diciamo. Di dove siete originari? Di Roma. Quindi ogni anno da Roma venite alla nostra spiaggia fanese? Quasi tutti gli anni, sì. E cosa vi piace di più di Fano? È un senso di accoglienza, di tranquillità che si trova raramente in altri posti. Poi lo sento a casa, oramai. Ascolti, in 50 anni che viene, secondo lei, com'è cambiata la città di Fano? Hanno fatto dei bei lavori sul lungomare e all'interno della città il borgo è cresciuto molto bene, molto pulito. E se dovesse dare invece un consiglio per migliorare ancora di più la nostra città? Qualche servizio in più, comunque sì, servirebbe. Quale? Un po' sui trasporti, perché non è tanto facile arrivare a Fano, insomma. Due amiche oggi in compagnia alla spiaggia fanese, come mai qua? È per stare un po' in compagnia insieme. Di dove siete originari voi? Città di Castello. E di dove, quanti giorni trascorrerete qua? Solo oggi. Cosa vi piace di Fano? Come mai avete scelto Fano? Allora, io vengo qua da sempre praticamente. E però ecco, era una meta vicina, quindi penso, no, perfetta per stare un giorno solo. Quindi mangerete qua in spiaggia? Stasera dove andrete? Qua, cioè rimaniamo qua in spiaggia fino a tardi e poi andiamo via. Se doveste convincere un vostro amico a venire qua a Fano, che cosa direste? La gente, che io l'ho sempre trovata molto gentile, disponibile. E comunque l'ambiente in generale che è molto tranquillo, quindi perfetto per una vacanza rilassante, secondo me. Signora, lei da dove viene invece? Vengo da Riola Terme, provincia di Ravenna, un paesino. E dalla Romagna come mai viene qua a Fano? Perché ci sono i sassi, non mi piace la sabbia. Oltre al mare comunque girerà un pochino anche per la città, i prossimi giorni sicuramente? Sì, oggi pomeriggio, se il tempo rimane così nuvo, non l'ho mai vista, Fano, quindi vado, mi hanno sempre detto che è molto carina, quindi andrò a vederla. Alloggi in un albergo? Sì, alloggi in un albergo qui sulla spiaggia. Quando ho chiamato, che avrò chiamato circa un mesetto fa, sì, ho fatto un po' fatica a trovare, perché ho chiamato vari alberghi che io volevo, che fossero sulla spiaggia così, e tanti o volevano una settimana intera, oppure erano pieni, ecco. Siamo in due, siamo per una camera, quindi mi sono adattata a quello che ho trovato. Noi veniamo da Mantova. Come mai avete scelto Fano? Ma in realtà dei nostri amici ci avevano chiesto se venivamo con loro una settimana qui a Fano e siamo venuti con dei nostri amici, quindi è la prima volta che veniamo qua. Da quanto tempo siete qua? Una settimana, domani, sì, una settimana. Avete girato anche un po' per Fano, come l'avete trovata? Sì, beh sì, è carina, piccola, ma carina, ecco, è un posto diciamo da, se si può dire, sì, un po' da pensionati, ecco, non c'è una vita mondana come, non so, cattolica, senigallia, però insomma si sta bene, ecco, c'è, ci si riposa, ecco qua. Aspotti, ma l'avete trovato quindi comunque sia una città accogliente? Sì, 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 anche nell'albergo dove siamo siamo stati molto bene. Avete avuto difficoltà per prenotare? No, per dire la verità no. Io vengo da Napoli, è bellissimo Fano, è bellissimo, non la cambio con nessuna cittadina d'Italia. Ma lanciamo un appello agli indecisi che non sanno se scegliere Fano o meno, che cosa direbbe? Che se ne pentiranno perché bisogna vedere Fano, è molto carino. A me ne venissero, la prima volta che vengono non ne andranno più. Grazie. Grazie.